C'eravamo illusi che questa settimana di mercato sarebbe stata un po' clamorosa, no? Con qualche botto di mercato per la Juventus, invece è stata una settimana un pochettino avara di emozioni. Ci sono stati degli entusiasmi dettati da tanti rumors, però poca roba. Prima di iniziare questo video, signori, io vi invito a scaricare l'app One Football, link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. E adesso iniziamo insieme questa riflessione sul numero 9, sulle cessioni da fare, eccetera, eccetera, eccetera. È stata una settimana avara di emozioni perché è vero che magari i nomi ci hanno scaldato un pochettino. Ci ha scaldato la prestazione di Dzeko con l'Italia, ci ha scaldato Luis Suarez che è un attaccante straordinario e formidabile. Ci scalda un po' meno magari la questione legata all'età, la compatibilità con Cristiano Ronaldo e la fase di non possesso. Che sono delle preoccupazioni che abbiamo, ma non credo che siano le stesse di Andrea Pira da questo punto, o della società. Se prendono un profilo di questo tipo è perché hanno chiara una certa idea di gioco da applicare sul campo, soprattutto sul pressing. Perché sapete bene che l'anno scorso ci siamo buttati su questo pressing iperoffensivo che è stato alla lunga deleterio. Perché il pressing è un movimento di squadra e se la squadra lo fa in maniera parziale poi diventa un disastro totale e un pericolo che costa tanti gol subiti. Roba da poco. Infatti noi l'anno scorso da quel punto di vista quel dato è disastroso. Ora, Pirdo parla di riaggressione immediata. Io non so con quali metodi vorrà cercare di riavvivare questo sentimento di riaggressione, viste comunque la passività degli attaccanti che abbiamo lì davanti. Suarez e Dzeko non spostano di un millimetro questo aspetto qua. Può spostarlo dal punto di vista motivazionale? Chissà, ma ciò sta a significare che Sarri è stato uno scarso motivatore, arriva a Pirdo con la stessa idea e riesce ad applicare, lascia qualcosa che non va a livello di comportamenti umani e empatia tra i giocatori e l'allenatore. Però è stata una settimana vara perché ci aspettava tutti l'acquisto lì davanti. Perché manca poco all'inizio del campionato, mancano due settimane quasi, no? E ci aspettavamo tutti il colpo in attacco per consentire a Pirdo di testare una squadra con una punta lì davanti, iniziare a provare i primi meccanismi, le prime idee di gioco lì davanti, perché anche l'anno scorso, signori, siamo stati un po' piatti dal punto di vista offensivo, con delle mezze ali che facevano fatica a inserirsi, un'aria sempre quasi vuota, terra di conquista dei difensori avversari, e noi che ci siamo solamente fidati dell'istinto da killer di CR7 e della bravura di Paolino Di Bala. Perché questo è, questo è. Ora, con una punta nuova sicuramente Pirdo avrebbe avuto un po' più tempo per buttarla là, a cercare di incastrarla subito nei meccanismi. I tre nomi che scaldano sono Cavani, che a quanto pare secondo Di Marzio ci sono stati dei dialoghi, anche se lui ha detto no perché sta bene dov'è che Napoli è una città fantastica, la famiglia abita là, quindi sarà sempre fedele al Napoli e sti cazzi. Poi c'è il buone D'Ingeco che è là, fermo a Roma, incastrato in attesa di una melanzana nel sedere, praticamente perché sta aspettando che si sblocchi questa trattativa tra Napoli e Roma, lato Milik-Cengizunder, non si sblocca ancora una mazza, va lì a capire. E la Juventus ovviamente non è che può stare là a soffiarsi il dito e cerca delle alternative. L'alternativa è Luis Suarez e a quanto pare è una notizia vera e propria che c'è un accordo totale tra il giocatore e la Juventus, proprio totale, però il giocatore deve ancora liberarsi dal Barcellona. Quindi abbiamo delle idee su delle punte che dovrebbero venire qua alla Juventus, ma non riusciamo ancora a prenderle concretamente. E questa è una roba che a me mi fa girare un pochettino le scatole in generale. Lato cessioni, invece, l'unica cessione degna di notte è Romero. Un anno di prestito con diritto di riscatto, chissà se l'Atalanta riscatterà il giocatore, però il riscatto è fissato a 20 milioni. E sarebbe una plusvalenza abbastanza importante che consente alla Juventus di avere un po' di rispiro lato bilancio. Lo sapevamo dall'inizio che Romero era qua di passaggio e poi sarebbe andato via in un'altra squadra. L'altra invece cessione è stata Perin, però è stata veramente una settimana snervante perché c'erano tante belle notizie e un po' quando cerchi una ragazza e te la fanno usare e poi però non si concretizza nulla. E questo ovviamente dà fastidio, dà parecchio fastidio. Quindi sono dell'idea che questa settimana dovrà essere per forza di cose decisiva perché poi ci avviciniamo all'inizio del campionato e senza il numero 9 non possiamo fare nulla. A mio parere manca anche un centrocampista per dare maggior qualità perché se partiamo ai nastri di partenza con questa rosa qua sta a significare che dobbiamo dare fiducia a Rabiot e Ramsey e a Rabiot gliela possiamo anche concedere vista e considerata l'ultima parte del campionato. Ramsey con riserva ed è un rischio perché poi se entrambe le cose ti vanno male a centrocampo fai fatica nonostante il grandissimo inserimento di Arthur che a quanto pare ha dato un'iniezione di qualità pazzesca almeno da quel che si vocifera lì alla continassa per come il ragazzo si allena e per ciò che sta dimostrando quotidianamente negli allenamenti sicuramente un giocatore come Awar, come un Pogba, come un Rodrigo De Paul che in tanti hanno comunque sputtato lì sopra sto ragazzo a mio parere serve perché dà qualcosa in più dal punto di vista offensivo ed è manchiamo un pochettino di produttività offensiva. quindi è tutto ancora un cantiere aperto sta Juventus e non sappiamo quando questo cantiere si chiuderà e se si chiuderà ed è un peccato ed è un peccato banco di prova importante preparatici le prossime due settimane se non riusciamo veramente a tagliare via i guai in che dire a tutti questi problemi che ci stiamo ancora trascinando trascinando ad inizio mercato sarà un bel problema sarà un bel problema una bella gatta da pelare per la Juventus tutta questa situazione perché ripeto abbiamo una squadra che va rinnovata in qualsiasi reparto quasi anche il terzino non l'ho menzionato perché a sto punto è un extra bonus tipo jackpot se riusciamo a vincere con a vincere intendo in senso figurato sul mercato con un centrocampista un attaccante è quello là il jackpot punto a sto punto rimaniamo così però per ora mercato ancora che non mi dà tante soddisfazioni bel colpo Saetta McKennie per carità non lo metto in discussione ma per il resto c'è ancora tanto da lavorare mi aspetto una settimana importante quella che verrà perché dobbiamo definire per forza qualcosa è vero che il campionato inizia ed il mercato è ancora aperto però se la Juventus vuole partire a razzo con un allenatore nuovo con delle idee nuove deve avere l'organico al completo altrimenti quel processo di applicazione dell'idea di Pirlo sul campo tarderà ad arrivare perché mancano gli innesti giusti mancano le persone che vadano ad interpretare quella che è la sua idea di gioco questo è che dire riflessione serale oggi non c'è alcun video perché aspettavo delle notizie e la notizia è che è stata una settimana una vara di notizie questa è una riflessione che volevo condividere con voi sono preoccupato ni ok ni perché mi aspettavo un mercato fast quest'anno molto rapido con delle idee ben chiare dei nomi subito già in arrivo pronti all'utilizzo per soddisfare quelle che sono le esigenze di un allenatore nuovo a cui è stata data tanta fiducia però la Juventus deve assolutamente andare incontro a questo nuovo allenatore che ha una certa importanza a livello di nome questo penso iscrivetevi al canale ditemi la vostra sotto nei commenti speriamo che la prossima settimana ci riservi qualcosina in più a livello di news un abbraccio un bacio a voi e sempre fino alla fine forza Juve